Salve a tutti gente, sono Caso90, ben ritrovati qua su Uncrafted World L'ultima volta siamo andati sotto, stavolta andiamo sopra Si fa un po' sopra, un po' sotto Quanto sono simpi Comunque, andiamo qua, between two lords Vediamo di fare questa, questa parte qua E via, si comincia, si comincia con lo sclero L'ultima volta abbiamo sclerato tantissimo Speriamo di sclerar meno stavolta, sì certo Ci fidiamo, vero? Dello, sullo sclerare poco ci Oh Oh Ciao Sono caduto per sbaglio qua io Allora, vediamo un po', si esce da qua No, si esce da qua Sì, ok Perfetto, abbiamo preso il primo La prima roba, che è sta roba qua? No, scusate, cosa sono questi blocchi? Ora voglio scoprirlo Esplodono, no, non fanno niente Sopra, sotto Qua Perfetto Ok, ah questo livello sembra più Sembra Sembra Ma lo so che se lo dico poi è un casino Però sembra più semplice Ok, l'ho detto ormai, ormai l'ho detto Me ne pentirò un sacco Schiuma Che è sta roba? Ah, ok Ok, devo entrare qua Che brutto lo schiuma Oddio Oddio Allora, lì c'è per forza un tesoro Sono sicuro al mille milionesimo Non è vero Dobbiamo salire da lì Ah, ok Sino a che non scendiamo giù Non si attivano questi Però ora si attivano per forza, no? Dovevo salire Dovevo scendere Cacchio Ok, allora È una cosa carina Però Nel senso Non è una cosa impossibile da fare Quindi Basta andare tranquilli Un pochino così E la possiamo fare Allora, uno Si sale Due Si va qua Si va giù Poi si sale qui su E si prende il checkpoint Perfetto Ok Come vedete Non era una roba impossibile Forse quelli di sotto Sono i livelli più difficili Mi sta venendo Questa cosa in mente Ok Eh Eh Ah Ma Perché non trovo Altre chest Mi sembra parecchio strana Sta cosa Però Si corre Si deve salire Ok Ma No, wait Ah L'ho visto ora Cavolo Eh C'è il punto dove Ci si può appoggiare Magari Se la smettiamo di far Cacate Che dite Che dite Allora Io posso fare così E da qui Si sale Perfetto E si va via Ok Ok Sta zona No Penso di Penso di dover Salire Sina qua Andar qui Porca Eva E quello cos'era Allora Quel tesoro l'abbiamo preso Quindi niente Eh 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 Si comincia Posso passare da qua Posso passare da qua No Da che ce l'avevo fatta a far quel pezzo Non mi piace rifarlo Da 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 Yeah Non è così difficile come gli ultimi eh Questo lo possiamo dire ad alta voce anche Quindi Non è così difficile come gli ultimi Quanto son simpatico potrei fare lo youtubers Porca puttana che fa Cos'è quello No per ogni volta ho sto giro E' veramente snervante Vedi ho parlato troppo presto Questo livello è facilino Dai No non posso entrare io lì Che 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 è sta cosa Devo essere davvero così preciso Si dovevo essere davvero così preciso Da finire lì Ok 1 2 Non cadere mai nella vita E devo andare qua Ok Ora se muoio Son cazzi amari Perché mi ammazzo sul serio Eh What No scusatemi Beh qui non posso salire Oh si No non posso salire Ok Qua c'è un piccolo problema Di C'è un piccolissimo problema Io lì non posso salire Quindi devo scendere No Non ci credo Oddio devo salire lì sopra Ma mi state prendendo per il culo E non c'è un checkpoint lì davanti Ok Uno Ah ma qui siamo più o meno al sicuro Nel senso non si muore lì Eh qua non si muore Ma pensavo di sì Ma non ci credo mai Tutto il tempo che ci abbiamo perso lì in mezzo Ma non si muore Non c'è lava là Allora E il checkpoint è qui Ma vai a cacare No 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 Vabbè Perlomeno abbiamo il checkpoint No Allora o lo fai bene per favore Allora concentration 2 3 4 Oh E non abbiamo ancora finito Quanto dura sto coso Certo Caeva Lì c'ero passato prima Non ci passo più Ok Uno Qua posso rimanere Sì che posso rimanere Ciao No No Allora abbiamo finito Mio caro Caveman No Perché mi odi così tanto Ok Ma Buono Buono Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Ce l'ho fatto Cacchio 10 10 minuti Su un livello Abbiamo finito comunque Bella l'immagine Figa Mi piace Ok vediamo un po' Facciamo questi tre Dai questi solitamente sono veloci a fare Quindi il reward ci danno anche lo zombie Bellino Pay Vai Andiamo Vediamo un po' come sto livellino Che non mi scatta niente Porca Eva Perfetto Allora è una specie di maze Cos'è Porca Eva Ok allora non ritornano Quindi questa è una buona notizia Questo Ok ce l'abbiamo fatta Questa era facile Vai Bellina Bene From Da Evalis dungeon Perfetto Ora lo sappiamo Facciamo questo Che ci da sto coso Che è Vabbè Andiamo Non ho un'idea di cosa sia Eh What Ah non li ho visti Ops Eh questi ormai siamo esperti Dall'ultimo episodio siamo esperti Cavolo No Passa prima Dai dai Corri 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 Che non so se ce ne sono altri poi Buono così Fatto Bellina anche questa Mi piace Sempre dai Evalis dungeon Che non ho idea di cosa sia ancora E facciamo anche questo Questo Minchia Niente È velocissimo Ma cos'era Una sdraio Stiamo sbloccando una sdraio Vabbè Non lo so Però Possiamo scendere qua Ciao 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 Facilissimo Facilissimo Questa è da Labyrinth Labyrinth Invece Eh Attenzione Cerchiamo di ricordarceli Eh non so Dove andiamo ragazzi Ne abbiamo fatto un po' Dai Però possiamo continuare Se ci siamo Facciamo Questa Dai Andiamo da Carnage E utilizziamo uno degli ultimi Che abbiamo sbloccato La sdraio Sbloccato No Bruttissima sta cosa Vabbè Lo zombie Lo zombie Mi piace Carino Ok Alur 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 Sì se magari Non sbatto Su ste minchiate Oddio Oddio Cos'è sta roba Caeva Ma tutti a me Devono capitare Ciao Ci faccio Ma perché posso andare qua Cos'è Ok Ok penso Di dover Riaffiare il livello Vero Certo Ovviamente Che Palle Ci ha fregato Dobbiamo fare Due E andare a caccare E mandare a caccare Quello 3 4 5 Quello spara fisso Quello spara fisso Dio No Dai Era uscito bene Non diciamo scemenze Ciao Facciamo il cucù Ai razzi Cucù Merda Merda Devo cercare di Star calmo Angelo Prende così E ora C'è un checkpoint Non lo voglio più rifare Quel pezzo L'ho visto quello Ovviamente Però Ah ok Vedete Se noi cadiamo lì Ci per Ah no Possiamo tornare Da giù Ok Ok Quindi era posizionato Per questo tesoro Penso No Porca Eva Ah se No Andiamo qua Una parte è andata Un'altra parte è andata Un'altra parte è andata Questa parte è mai nella vita Oh Oh Ah si questi livellozzi Sono poco poco più semplici Rispetto alla All'altro Agli altri che abbiamo visto Questa è una zona di guerra Che è Ah scendiamo qua Prima di tutto Cerchiamo di capire un po' Da dove si è Si può uscire da qua Mai nella vita Giustamente Devo rifarmi Tutto il giro Al contrario Senza morire Magari Ok Ora Dove Sti livelli sono Cioè o meglio Non sti livelli Sto livello Un po' incasinato Si capisce E che è quello Ah è una mano Ok Che cavolo sto guardando Ah questi mi sparano Oddio Ok Siamo salvi C'è gente morta Vabbè Lì ci siamo già andati Ovviamente Porcaccia Eva Guardate cosa c'è qui sopra Io passo passo E scappo E scappo Passo e scappo No Era lava Dio Mi sono salvato Per un pelo Ok Non so se notate Ma non si capisce niente In sto livello No Mi sembra Ho messo un pochettino Apposta Per non farti vedere Magari qualche chest Lì in mezzo Però magari mi sbaglio Perché qua chest Non ne vedo io E infatti Non c'è niente Ok E sembrano degli aerei Quelli Non so se avete notato Forse erano degli aerei Ehm Qui Ok Ok Ho sprecato il Il jump lì Ok E qui si sale di nuovo Dove però Non mi puoi fare sti scherzetti O mi mandi da una parte O mi mandi dall'altra Vero Perché c'è oro qua Assolutamente una stanza del tesoro Quando c'è oro Però qua Non vedo entrate di nessun genere Questo è l'ultimo cannone No Ok Ah eccolo Dai 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 Ok Ci abbiamo fatta Che cosa è quella roba? Fa appoggiarsi Sì ok Sì ok Sì ok Sì na che fa appoggiarsi Nei luoghi dove sto passando Mi sta bene Brutto è quando non fa Ok Questa parte Difficile Ok Grande così Abbiamo preso tutti i tesori Quindi via Si parte molto In fretta Devo andare Devo andare precisamente In queste punte qua Se no Non passiamo Cacchio Potevo fermarmi lì Qua ho fatto una stronzata Dio Ho già fatto Vola Ok Ah penso Siano finiti così qua Quindi bam E via Fatta che questa Diablas chest Diablas Questa Che diablas Ah ecco perché si chiama Diablas Un diaboletos Comunque Ragazzi abbiamo finito Anche qua Ma penso Faremo questo Dai ci siamo Ci siamo Ma la sblocchiamo Anche questa Vai Vai così Caveman Fammi vedere che comando Cacchio è pieno di Porca Eva Cosa ho appena Cosa ho appena evitato Lì in mezzo Mia Tiè Vaffanculo Ho fatto Il ghigno Al cosa Da beach bubbles Capitolo 3 C'è sta tizia Quindi se lo volete Sapere È lì Comunque ragazzi Stiamo finendo Sempre di più Stiamo finendo Sempre di più Uncraft world Siamo vicinissimi La prossima volta Faremo Mi sa questi livelli Quindi tutti questi Siamo arrivare qua E sbloccare Quel pezzo Poi vediamo Di finirli Tutti piano piano Ragazzi Manca sempre meno Attenzione Attenzione perché Manca sempre meno Ci vediamo ovviamente Sul prossimo Episodio Mi piace Comitino qua sotto E alla prossima